Musica È in collegamento da Roma, è il rettore dell'Università Niccolò Cusano, l'Università Telematica. Benvenuto a Fabio Fortuna, buongiorno professore. Buongiorno, grazie dell'indicazione. Professore, torniamo un attimo alla questione della crescita, perché in settimana sono arrivati dei dati importanti, sia l'Istat, l'Istat addirittura ha rialzato le stime per quest'anno, il nostro PIL dovrebbe arrivare al 4,7%, conferme positive arrivano anche dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Ocse. L'unica cosa, professore, è che tutti questi analisti evidenziano il fatto che è partita soprattutto l'industria, quella della manifattura, mentre i consumi delle famiglie ancora stentano e sono molto indietro servizi e turismo. Quando la ripresa riguarderà anche questi settori? Intanto accontentiamoci che la ripresa ci sia, perché indubbiamente usciamo da una situazione disastrosa e grazie al miglioramento della campagna di vaccinazione e anche a tutto ciò che stiamo vedendo in termini di riaperture, la ripresa c'è. È evidente che alcuni settori rimangono indietro e c'è poi il problema, come lei diceva, dei consumi. Però dobbiamo essere fiduciosi. Professore Fortuna, l'abbiamo persa per qualche secondo, non avevamo il collegamento. Le chiedo di ripartire con l'inizio della sua frase. Si, stavo dicendo che i dati che lei ha ricordato ci confermano che l'Italia sta migliorando. Indubbiamente il miglioramento riguarda alcuni settori e altri no e sappiamo benissimo quali siano quelli in maggiore difficoltà. Ora però bisogna avere fiducia e ottimismo legate a un sano realismo, perché la situazione evolverà positivamente a condizione che lo Stato di pandemia continui anch'esso a mostrare decisioni di miglioramento. I consumi, certo, devono riprendersi, però dobbiamo essere fiduciosi. Gli italiani hanno risparmiato molto. Il dato di fine aprile dell'ABI ci dice che sui depositi di famiglie e imprese giacciono 1.756,6 miliardi, che vuol dire maggiore del PIL 2020. Devono cominciare a spenderli. E cominceranno sin da quest'estate, speriamo, con l'incremento del turismo interno. Professore Fortuna, il governatore di Banca Italia Visco ha detto che non è pensabile vedere per i prossimi mesi un futuro basato su sussidi pubblici e sostegni. Secondo lei quanto dovrà durare il sostegno del governo a famiglie e imprese? Ma durerà quello che è necessario. Indubbiamente Visco sollecita il fatto che non si può andare avanti con i sostegni. Ma i sostegni diretti e indiretti ancora per alcuni mesi ci accompagneranno. Probabilmente, se le previsioni del governo sono esatte, non ci sarà bisogno di un ulteriore spostamento. Ma la situazione è, al momento, anche sotto questo profilo, messa qualche segnale di miglioramento, soprattutto per alcuni settori. Professor Fortuna, sentito nel nostro servizio, beh, arriveranno nuovi fondi per l'università. La Corte di Conti ha evidenziato però che ci mancano i laureati nelle materie scientifiche. Eppure è una costante da anni. Perché, secondo lei, professore? I laureati STEM, cioè in materie scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, rappresentano il 24,7% dei laureati. Quindi un livello molto basso. Ma io credo, intanto per un'abitudine a facoltà di altro genere, mi riferisco a economia, giurisprudenza, scienze politiche. E poi perché questa prenesia dell'innovazione tecnologica giustissima e della digitalizzazione e i problemi ambientali si stanno avvertendo molto in questa fase. Quindi io credo che l'aumento che negli ultimi anni si è verificato di questi laureati, con una bassa percentuale di donne, questo va sottolineato del 24,7%, solo il 16,2% rappresentato da donne. Queste percentuali aumenteranno sostanzialmente proprio grazie al recovery plan e a tutti gli argomenti connessi. Professore, parlando sempre di lavoro, secondo l'associazione dei pubblici esercenti, per quest'estate mancano 160.000 posti per quanto riguarda camerieri, addetti alle polizie e anche baristi. Sempre secondo l'associazione, molti giovani preferiscono rimanere a casa, prendere il reddito di cittadinanza o di emergenza, piuttosto che andare a lavorare. Le chiedo un commento su questo. I sussidi che lei ha richiamato indubbiamente contribuiscono alla difficoltà del ripetimento di soggetti disposti a lavorare a livello stagionale. Anche se, secondo quello che si sente, lo salario offerto a questi soggetti è di gran lunga superiore. Certamente è un problema e serve rimediare in qualche modo. Speriamo che possa risolversi il problema e la stagione possa partire. Grazie, professor Fortuna, per essere stato con noi. Buon fine settimana. Grazie.